Edificato in due mesi per 2.500 metri quadrati, divisi su sette piani e 28 metri di altezza, il Nautilus, l'hotel in legno più auto d'Europa, verrà realizzato in Viale Tereste a Pesaro per rinnovare l'offerta turistica della Riviera Adriatica nel segno della sostenibilità. Questa è l'ultima sfida di Nardo Filippetti, fondatore e presidente di Eden Viaggi, che ha presentato alla stampa la nuova struttura ricettiva che verrà inaugurata nella prossima primavera. L'albergo, che coniuga un corpo preesistente con uno costruito ex novo, si affaccia direttamente sulla spiaggia e ha oltre 700 metri quadri di spazi esterni. Il progetto inoltre è una vera e propria oasi ecosostenibile perché rispetta dei criteri rigorosi di bioedilizia. Innovativo a partire dai materiali, il legno in primis, più sicuro ed efficace del cemento in termini antisismici, termoisolanti e per le proprietà ignifughe, grazie a lavorazioni che rendono le nuove costruzioni più resistenti al fuoco. Ci sono voluti 15 trasporti eccezionali per portare in cantiere 788 metri cubi di legno, oltre a 240.000 viti e 4.600 connessioni in acciaio per l'aggiunzione dei pannelli. Il nuovo fiore all'occhiello è pensato per l'esigenza di un turismo familiare e dispone di 111 camere, con stanze comunicanti e family room da 4-5 posti letto. L'attenzione all'esigenza degli ospiti più piccoli è curata da uno staff specializzato. Per i bimbi fino a due anni c'è anche una cucina attrezzata per la preparazione delle pappe. Il ristorante propone i piatti della tradizione marchigiana, privilegiando prodotti a filiera corta e materie prime a chilometri zero. È affiliato inoltre all'Associazione Italiana Celiachia.